Musica Vedete, trascendono il mio controllo Abbiamo fatto un fatto Non penso di poter sopportare altri dieci secondi di essere preso in giro Signor Miconte La ragione per cui ho deciso di non rispotarsi Non ho fatto i miei innumerevoli amanti E' stata la scelta di non prendere mai più ordini E se decisevo di dire una cosia Non c'è il divertimento E non perché non l'avessi fatto in realtà Quindi se ne ho risposto E pregato di usare un atteggiamento un po' meno coniugale E' ricordato? E' ricordato? E va bene Guarda E' ricordato? E' ricordato? E' ricordato? non sei cazzo non sei nel giro se le scusero a vedere le nostre forze ragazzo perchè le mettevi solito qual è che hai tu? si! oh mio! oh mio! oh mio! oh mio! oh mio! conosceretevi un momento due cose un consiglio una richiesta va bene parlate pure il consiglio dovete non so dovete disfidare la Marchesa di Mortoni mi scuote perdonarmi ma non mi posso credere quando parlate della Marchesa eppure io ve lo devo dire lo stesso la Marchesa di Mortoni è sempre sincera e la richiesta di te va non mi sono mai non mi dico mai ma non mi senti se ne scorda mi scorda non andando di provare a sta morendo per questo ho detto che ci appesi vuoi venire che l'avevo giugno è fatto bene il consiglio è stato bene mi sono mai mi sono mai non mi sono mai ma non mi sono mai ma non mi sono mai Grazie. 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 Grazie.